Dovevano essere la soluzione per migliorare la viabilità e diminuire l'inquinamento a Roma. Invece le piste ciclabili sono diventate un problema, spesso malprogettate e lasciate nell'incuria, come denunciano cittadini e ciclisti. Diciamo che c'è di tutto, le signore con cagnolini, monopattini parcheggiati in mezzo alla pista ciclabile, vetri, bughe. Per me è una cosa, ogni giorno, ogni due giorni devo cambiare camera d'aria. Questa pista è frequentantissima, però si scivola perché la pendenza è al contrario. Io ci vado spesso ma si scivola, molta gente si è fatta male. La zona più critica è a via della Pineta Sacchetti, vicino al Policlinico Gemelli. La riduzione delle corsie per via della pista ciclabile ha incrementato il traffico. Sempre più spesso si vedono ambulanze bloccate che non riescono ad accedere al pronto soccorso. Tutto questo per una pista che, dicono i residenti, non viene usata da nessuno. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e l'assessore alla mobilità, Eugenio Patanè, mesi fa avevano promesso la rimozione della ciclabile inutilizzata. Ma ad oggi la situazione non è cambiata.